Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smith Terry e eccoci qui per il primo episodio di Fairy Tales Siamo già tornati con Nazzo e Lucy nella gilda più pasta di fiore Ho detto Nazzo, ho fatto come se secondare per cercare di raggiungere il livello 95 della gilda ma sono stato livello 30 E nel frattempo sono cavate tante storie con i personaggi secondari di questa storia Quindi ho detto basta, sono livello 30, sono già a buon punto, ho fatto anche molte inizioni Cioè qua è appena sono oltre, sono tutte da 2 ma sono state da 3 ma lasciamo stare Direi andando a fare 6 missioni con i personaggi, sono qui ora, quindi Bene, scopriamo cosa accadrà e per farlo basta andare avanti, quindi bando le challenge e che raggiungo inizio, let's go Sì 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 Il nostro corso è stato fatto che sia stato un'interesse di ricerca, quindi potete farlo a fare un'interesse di rinforzare. Io sono un'interesse di un'interesse di rinforzare, quindi mi ha fatto che sia stato un'interesse di ricerca. Ci sono stati di ricerca, non? E? C'è stato di rinforzare? E? C'è stato di rinforzare? Non è stato di rinforzare. E' un po' di ragazza, e' un po' di ragazza che io ho fatto parlare, c'è un po' di ragazza. Ah ah, mi pareva. Mi sento che mi sento. Lucy, io anche la faccio. Ma non mi sento che 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 mi sento. Allora, andiamo! in cui stinker e vallusi aiuto e sembra che vuole essere che facesse la sua gilda o qualcosa dunque prendiamo altri membri fino a possiamo farlo quello vogliamo tutti i dragoslayer tutti i dragoslayer dai cioè i dragoslayer più lusi come on let's go a luci a a a i 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 li i i no mina aiz 遺跡の方に逃げていったの ちょうどいい取り返しに行くぞ雪の 俺の側から離れるなよ go面目 e 言ったああ Sì 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 Sì